Questo si sa! E che c'è questa? Ma non è un po' di... Gianni! 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 Era il migliore di tutti noi. Magari fosse andata così. Ma ti ricordi? Ma che per conto? Poi ti spiego perché. Non me l'hai mai spiegato. La nostra generazione ha fatto veramente schifo. Perché? Beh, beh... Guarda Nicola, per esempio. Che ha fatto Nicola? Eh, che ha fatto Nicola? Ha preso a calci la famiglia, la carriera... e a coronamento di tutto... è finito a scribacchiare critiche cinematografiche... firmando vice. Ah, è lui vice? Ma allora scrivi sul sacco dei giornali. E tutto questo perché? Per un futuro diverso. E beh... Il futuro è passato. E non ce ne siamo nemmeno accorti. Ma che? Ma chi l'ha detto? Buttare via la propria vita... significa farne il migliore degli usi. Oppure preferite quest'altra battuta, eh? Vivere come ci pare e piace costa poco. Perché lo si paga con una cosa che non esiste. La felicità! Ah, madonna. Mi associo. Ah, sì? Io invece preferisco quest'altra battuta qui. Giusta giusta per voi associati. Siete due individualisti intellettuali... come posso dire? Fracichi? Sempre meglio essere intellettuali fracichi... che proletari imborghesiti. Come a te? E questa me la devi chiarire. Presto fatto. Perseguite la politica dello struzzo. Testo sotto terra e sedere in su... alla mercè del primo che fa. È chiaro. È chiaro. E non che non è chiaro. Io ancora non ho capito a che farò che appartieni. Il mio pensiero politico fa paura, no? Ma a chi fa paura? A questo! C'è sformata perchè il mondo fa... a chi pure senza te voi! Andate alla casa! Ma andate alla casa! Mi accontentate di quel poco che mi danno... e che è sempre meno! Beati di essere serbici! Oh, ancora! Ma che stai a dire, imbriaco? Sei sempre stato un ipocrite! Dammi! Se sono un ipocrite come faccia ad ammetterlo? Datemi a sentire invece! Tu sarai più su, più giù, sarai più oltre... Vi devo dire una cosa! Non mi fa parlare! Sono sulle mani sa ragionare! Il compagno! E quando la usate questa parola? Quanto mi fa povero? La minoranza rumorosa! Ecco che sì! Vi aspettate soltanto da andare al banchetto! Questa è la verità! Sono ricchissimo! Lo volete capire? Sono io il vostro nemico! Ma se avete fatto più stanno volete la grandire! Ecco qua! Nicola Palugno! Bestia, ecco quello che sei! Non a caso fai parte della manfia riformista! Se la formo io la stessa! Io mica c'è stanza! Con me sei capicato male! Davvero? Molto male! Sta sempre in cazze tra sta! Come tutti i falliti! No Antonio, dai, no! Dov'è staggia mia? No, non è questo! Nicola! Ma... E non fare il ragazzino! Dai! Rimettiti... Rimettiti gli occhiali! Dai! Che è successo? In fondo... Non è successo niente! Su, su! Chi è avadente? Avadente 2! È stata una discussione stupida! Abbiamo detto così tante cose! Senti! Anch'io... Ho cercato di dirvi una cosa! Che cosa? Cos... Pondeò cosa è successo? Grazie a tutti.